Si sarebbe radicalizzato in carcere il detenuto di 27 anni che ha coltellato due guardie nel carcere francese di Alençon, dove ancora ha serragliato per sottrarsi alla cattura. Michael Chiolo, con precedenti persequestro di persone e omicidio, ma anche con condanne per apologia del terrorismo, ha usato un coltello di ceramica al termine del suo incontro periodico con la moglie. I due agenti della penitenziaria sono rimasti feriti al viso e al torace e non sarebbero in pericolo di vita, secondo uno dei sindacati di categoria. La ministra della giustizia, Nicole Bellobé, ha disposto un'ispezione nella prigione, finora considerata tra gli stabilimenti penali più sicuri di Francia. L'attacco a due sorveglianti da parte di un detenuto è evidentemente un atto estremamente grave. Il carattere terroristico non solleva dubbi, dunque è stata investita la procura antiterrorismo di Parigi. Abbiamo elaborato un'ipotesi che rimane a livello delle mere possibilità, secondo la quale il coltello sarebbe stato fatto avere al detenuto dalla sua compagna. Chiolo, che si sarebbe convertito all'Islam nel 2010, deve scontare 28 anni per il sequestro e l'omicidio di un ottantenne sopravvissuto alla Shoah, rapito con altri compici allo scopo di rapina.